Fortunati telespettatori, oggi parleremo di un argomento che in tv si sente davvero poco, cioè i libri. Oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è di una cara amica, non per questo è un libro meno curioso o meno bello, di Francesca Sgorbati Bosi, A tavola con i re, La cucina ai tempi di Luigi XIV e Luigi XV. La ricercatrice è andata veramente a fondo nella cucina e nei cibi di quest'epoca. Il libro è anche correlato di numerosissime ricette rigorosamente di quel periodo. Un libro che vi consiglio perché è fatto davvero bene, con scrupolo e capacità ricercativa veramente fuori dal comune. L'altro libro è stato segnalato da voi così come fate molto spesso e io di questo vi ringrazio. Il libro è di Ruggero Cappuccio, Fuoco su Napoli. Bene, ringraziamo lo spettatore che ci ha segnalato questo libro che io ovviamente rigorosamente ho letto perché come sapete noi parliamo solo di libri che ci piacciono, che ci sono piaciuti. E questo è davvero un grande libro, pensate, prende l'Incipit da questa Napoli che probabilmente verrà distrutta dall'acqua e fuoco e c'è uno speculatore che agisce per cercare ancora una volta di rovinare questa grande città o forse di salvarla. Insomma, due libri davvero curiosi che vi consiglio. Eccoli qui, Alza il volume.